Iridis è uno spin-off nato nel 2017 e è nato dai successi di un progetto europeo finanziato al Comitato Europeo che si chiama Metable della Col Rice. È composto da ricercatori, docenti e dottoranti, quindi è una forte componente di giovani. Il nostro obiettivo è quello di puntare sulle biotecnologie, ma soprattutto di fare ricerca innovativa, nel senso che vogliamo scoprire dei meccanismi naturali e di microrganismi per poi applicarli in prodotti che sono utili anche per l'uomo. Ad esempio vogliamo proporre dei organismi che riescono a ripulire l'ambiente, dai contaminanti come il diesel oppure metalli pesanti. Inoltre vogliamo anche produrre nuove molecole. Ad esempio siamo adesso mettendo a punto dei sistemi per produrre nuovi antibiotici. Il nostro scopo è anche quello di creare meccanismi in vitro per dei processi industriali che possono essere utili per la comunità.